Buongiorno e bentrovati a mattino 6. Oggi, venerdì 18 novembre, si venera San Pietro e Paolo. Iniziamo con la nostra rassegna stampa, con la lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali dal quotidiano dell'Abruzzo il Centro. Vediamo l'edizione dedicata a Pescara, Bussi, quei veleni mai rimossi. La commissione d'inchiesta del Parlamento accusa troppe omissioni. In centropagina, anniversario De Cecco, 130 anni di successi. E poi la lettera, Matteo, hai giurato, blocca il progetto del metanodotto. Tra le cronache, Pescara, Movimento 5 Stelle, Scrutatori, ora la procura apre l'inchiesta. E ancora cade dalla moto in via Doria, 43enne in coma. A Pescara sempre la vedova Orlando. Per noi, niente giustizia. Nel taglio basso, poi, Regione, regalie. A pioggia, legge, ma si allunga la lista dei contributi. E poi ancora una notizia sportiva. Domani Juventus-Pescara. Oddo è in ansia per Manai. Il centravanti albanese indubbio per un problema al piede. Passiamo all'edizione dedicata alla provincia di Teramo. Sfollati, il record spetta a Teramo. A Civitella, la scuola in un hotel. Il caso della Lucidi in procura. Tra le cronache, Tortoreto e sempre giallo. Sull'artigiano sparito da casa, Pineto, Doloso, il rogo al consorzio dei rifiuti. Elezione, Giovannelli, presidente, Confcommercio. E poi il calcio. Nel taglio basso, mister Nofri carica il Teramo. Battere l'Ancona è un imperativo. Non possiamo fallire. Edizione dedicata all'Aquila. Matteo blocca il metanodotto. Sul Mona, gli scout scrivono a Renzi. Hai giurato, mantieni la promessa. Nelle cronache vediamo il futuro urbanistico di una città nuova. e ad Avezzano, furto al camo, operaio licenziato. L'Aquila, spaccia droga, arrestato ex regbista. Pesca a Seroli, tre ragazzini, i vandali di casa Maraini. Verso il derby, cuore a metà per l'ex bomber, parla di Nicola, l'avezzanese, ex goleador dell'Aquila. Ed ora la prima pagina del messaggero. Scrutatori in lista, figli e amici. Pescara, dopo quella del vice sindaco del Vecchio, spuntano le indicazioni di altri politici. Ai seggi anche mogli e fidanzate. Malessere nel Partito Democratico. Ecco l'elenco dei partiti coinvolti. A Montesilvano il Tar licenzia l'assessore Vaccaro. E poi ancora in centropagina Teramo, negozi K.O. per colpa del terremoto. Centro spopolato, commercio sempre più in crisi. E la villa devastata. Ad Asia Maraini vuol perdonare i baby vandali. Il caso, vermi nel pesce. Quattro ragazzi al pronto soccorso a Chieti. Le code di Rospo comprate al market, ci sono foto scattate dai giovani, indaga il NAS. Nel taglio basso, l'Aquila condannato ex maresciallo. La città, il quotidiano della provincia di Teramo, in apertura alla municipale, multa i terremotati. Nel mirino camper e roulotte di chi ha lasciato casa per paura. L'operazione suscita indignazione. E la fotonotizia, scuole subito al sicuro, a Civitella, classi degli edifici inagibili spostate nel ristorante antisismico. E per i sindaci, gli edifici continueranno a crollare. Scuole e uffici inagibili, comuni del cratere, chiamati ad una scelta cruciale. La storia, lì alla postina amica al servizio dei terremotati, dei monti, della laga e poi Teramo Calcio. Bisogna vincere ad ogni costo. Ed ora passiamo ai quotidiani nazionali. Dalla Repubblica, in apertura referendum, il no avanza. Il sondaggio, il sì, dietro di 7 punti. Nell'ultimo mese i contrari cresciuti del 3%. Un italiano su 4 ancora indeciso. Pisapia, senza la riforma, un paese instabile. E la vignetta in centro pagina, dal referto del voto, capiremo come funziona la pancia degli italiani. Vediamo ancora altri titoli. Obama-Merkel, la cena degli addi. Se fossi tedesco la voterei ancora. Nel taglio basso, lasciate una poltrona vuota alla cerimonia dei Nobel e poi la ferita del giovane Papa potrà diventare una poesia. Passiamo al Corriere della Sera. Referendum, nel taglio alto, il no arriva al 55%, ma più di un votante su 10. È indeciso l'analisi, i due scenari. Cosa c'è dopo le urne? In centro pagina, Stati Uniti, la Fed ha la sfida con Trump. Il presidente gli ha il resto alla guida e la riforma di Wall Street. Non si tocca. E poi tra i nativi, vive in Amazzonia, ha aperto scuola e ambulatorio. Emanuela, un'italiana nella tribù dei Cavoclos. Il caso De Luca, ha degli insulti, chiama il PD a non sorvolare poi casa Clinton. Non voleva uscire più la crisi di Hillary. Violenza, il giudice irrompe nel palio e poi ancora camorra. 9 anni a Cosentino e vince il Corriere che legge le notizie. Il messaggero, vediamo avanti il no, partita aperta. Referendum, gli ultimi sondaggi danno i contrari alla riforma al 52-54%, il sì al 46-48%, ma l'Italia è spaccata. Determinante il fronte indecisi, Renzi da Fazio, il caso per. Parcondicio. E poi vediamo la fotonotizia. Hillary Clinton, i segni della sconfitta. Volevo barricarmi in casa. Gli ellen sfida Trump, io resto, rialzo dei tassi vicino, euro giù. E poi l'ultimo assalto di De Luca a Bindi e riparte il coro degli indignados. Nel taglio basso, Camorra, Cosentino condannato a 9 anni. Passiamo al giornale. La guerra del referendum, la Boschi ricatta, se non mi voti ti tolgo 80 euro. Il ministro, il contributo resta solo se vince il sì. E l'agicom contro Fazio, partigiano in TV. La banca centrale USA mette i bastoni tra le ruote a Trump. Ed ancora gli italiani svendono la casa per campare. La stampa, referendum, il no avanti di 8 punti. L'ultimo sondaggio prima del silenzio. Renzi, se perdo, niente governi. Roma tiene la linea dura e si astiene sul bilancio UE, che aumenta i fondi per Erasmus e rifugiati. In centropagina, un'altra donna sfida a Trump. Il presidente della Federal Reserve resto al mio posto a Wall Street. E Wall Street non cambia, ha dichiarato. Il cartellone tra le notizie, i mille travestimenti di dosi, poi Schiavone, lo sbiro imperfetto conquista anche il pubblico della TV. E Obama lascia alla Merkel lo scontro con i populisti. Il tempo, il quotidiano indipendente nel taglio alto. Vediamo il giallo del quadro della Gioconda, non è Mona Lisa, è Isabella d'Este. Nel centropagina, invece, la fotonotizia. Il nuovo stadio non si fa, ma il Tevere sarà navigabile dopo i giochi. No al nuovo impianto. La sovrintendenza boccia il progetto. La muralo rispolverà il dossier sul fiume delle precedenti amministrazioni. E le quante polemiche per una provocazione. Così il redazionale, sede Luca, ammazza Rosi Bindi. In breve il governo non chiarisce, giallo, sulle riforme per i prelievi limitati di contante. Concorso esterno per mafia. Nicola Cosentino condannato a nove anni. Il PM ne voleva sedici. Ginnastica come il tennis, che chi la fa politica, business a Roma. Con gli internazionali nel taglio basso, esce per pulire la strada. Arrestato era ai domiciliari. Dovrà scontare nove mesi per evasione. Avvenire il fatto in apertura. Misericordia e unità. Questo è il titolo della fotonotizia. L'intervista a Papa Francesco. Il fatto quotidiano, esclusivo. Il boss De Luca, Bindi va uccisa. Io voglio i soldi. Me ne voto del sì. Non solo le minacce, anche i delivi di una riunione a porte chiuse. Travestono da Vittoria una sconfitta. Ed ancora, tra i commenti, una contesa che non aiuta i nostri. Robinù bastonate, Palazzo Chigi pressa i governatori. Fate propaganda o saranno guai. E l'ultima rilevazione. Sondaggio del fatto. Renzi vince solo se raccoglie tutti gli indecisi. No, avanti di sei punti. Gli incerti sono attorno al 14%. La condanna all'ex sottosegretario di Berlusconi. Era il referente dei Casalesi. Nove anni al forzista Nicola Cosentino. Poi ancora, vediamo, scusate il ritardo, troppo spazio al Premier. La Gcom, Bacchetta, Fazio. Il Gazzettino, avanti il no. Ma l'Italia è spaccata. I contrari abbiamo visto al 52-54%. In crescita al sud e al nord-est sarà determinante. La scelta dei molti indecisi. Gli ultimi sondaggi sul referendum del 4 dicembre. Renzi da Fazio. Un caso par condicio. La fotonotizia. In centro pagina. Nuovi guai per l'olgettina di Treviso. Berlusconi denuncia. L'ha rigato. Voleva un milione per tacere. E poi il caso. Guerra a Padova. Guerra degli affitti. Nel PD a rischio sfratto. La sede del partito. La sentenza. Cosentino condannato a nove anni. E credito. Popolare Vicenza. Caos e favori. Tutti i buchi della gestione. Titoli. A Belluno. L'ultima di Equitalia. Tre cartelle. Per un debito di 63 centesimi. La vittima. Detto. Ho pagato. Non si sa mai. Libero. In apertura. Si è svegliato. Il nonno. Prodi ragiona sull'immigrazione. Secondo il professore è sbagliato. Portare solo nel nostro paese tutti i profughi. che salviamo in mare. E accusa l'Unione Europea di praticare una strana solidarietà. E vacilla intanto perfino la fede di Lerner nell'Islam Italia. Fuorionda Matrix del governatore della Campania. Ade Luca piace la bindi morta. E nel taglio basso vediamo nella notte della sconfitta. Urla bestemmi e botte la crisi isterica di Hillary. Il manifesto raschia tutto. Così il titolo della fotonotizia. L'overdose di Renzi a reti unificate ha già truccato le carte dell'informazione a vantaggio del sì. I nuovi dati dimostrano che la par condicio è solo un inganno dei conteggi all'ultimo giro di Boa. L'agicom dà segni di vita. Nessuna sanzione ma la richiesta a fazio dell'elenco dei prossimi ospiti politici. Obama-Trump non cedere a Putin. E dal Venezuela Blanca-Incaut deputati macio. Vediamo all'interno invece De Luca. Bindi da uccidere. Buffera PD sul governatore. Cinque stelle invece firme false. Il caso Palermo fa tremare Grillo. Bilancio UE. L'Italia si astiene. Il veto di Renzi può attendere. Il mattino politica e camorra. Nove anni a Cosentino. I difensori pronto. Ricorso. La sentenza si può ribaltare in appello. E attacco alla Bindi. Buffera su De Luca. Ha fatto cose infami da ucciderla. Poi le scuse. Frasi rubate. La rispetto. E la visita in Germania. Obama-Merkel. Ultimo abbraccio a Berlino. Il commento. La democrazia del fuorionda. E poi sondaggi. No avanti. Decidono gli indecisi. 20% degli elettori ancora in bilico. Il titolo dell'analisi. L'incognita delle bugie. E poi nel taglio basso. Cis Interporto. Via libera al piano industriale. Baretta. Scommesse. Abbiamo esagerato. Tra le interviste. Il sottosegretario. Pronta alla stretta del governo. Ed ora la gazzetta del mezzogiorno. In apertura le riforme. Renzi rischia tutto. Se perdo. Non disponibile. A governi tecnici. Ai pasticci. Non ci sto. Accordo sul bilancio dell'Unione Europea. Ma ora l'Italia si astiene. Nel taglio alto. Invece furbeti. Del parcheggio. In azione. Al policlinico. A Bari. Blitz. Dei vigili urbani. Scoperti. 56 pass falsi. La crisi Puglia. La guerra del grano fa vincere la speculazione. Crolla il prezzo. Alle stelle il prodotto estero. I pastai servirebbe un'autorità di controllo. E poi vediamo ancora il presidente Campano in TV. Bindi da ucciderla. Tempesta su De Luca. L'abbiamo visto. Lo scontro nel PD. Saviano ha detto irresponsabile. Ancora l'antitrust nel centropagina. Sì. All'acquisizione della società da parte di Ferrovie dello Stato. Sudesso che è dalla procura. Non ci sarà il fallimento. Fanno i consorsi di difesa in Puglia. Dopo quelli di bonifica. Agricoltura in sofferenza. Il secolo XIX. Vediamo l'ultimo sondaggio. Dice noi. Contraria al referendum. Avanti di 8 punti. Renzi. Se perdo niente. Governicchi. E vediamo in centropagina. A Genova. La fotonotizia riporta. Con l'auto tra i passanti. In via 25. Feriti. Guidava e telefonava. Così hanno detto i testimoni. L'ex presidente Carigel PM condannate Berneschi a 6 anni e Menconi a 7. Poi ancora indaga la finanza. Pagati in euro i campioni della Prorecco. Passiamo all'unità. Strage di migranti. Bombe su Aleppo. Non sono più notizie. Per questo ne parliamo. E il PD blocca la strategia dell'inciucio. Renzi. No a governi tecnici. Chi vuole pasticci dopo il referendum li faccia senza di me. Sul Italicum garantisce che verrà cambiato comunque. Speranza. La maggioranza ci sarà. Assenzione sul bilancio. L'Italia non fa sconti a Bruxelles. Poi De Luca sotto accusa. Per le frasi sciocche su Rosi Bindi abbiamo visto. Camorra Cosentino condannato a 9 anni e referendum a Mirafiori. Sondaggi e astrologia. La verità. In apertura gli appalti privati della TV pubblica abbiamo trovato le prove di un bando deciso. Con un amichevole scambio di mail tra televideo e un'azienda. Sarebbe illegale ma una manina ha messo nella finanziaria la norma Salva Rai. In centropagina per il governatore della Campania Labindi va uccisa. Ancora parole indecenti. Così il titolo del redazionale. Un terrorista di Stato che dovrebbe dimettersi. Il velo inculcato alle bambine, libro a fumetti, distrutto in Italia per esaltare i burgini islamici. E poi ancora nel taglio basso, se il ministro dell'economia non ha idea neppure di quanto costi un litro di latte. Ed ora ci fermiamo con la prima parte di mattino 6 per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo. E quindi con Luca Mennella di InMeteo.net Eccoci rientrati alla seconda parte di mattino 6. Passiamo alla lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali dal centro. Abbiamo visto la prima pagina dell'edizione dedicata a Pescara. Adesso all'interno l'anniversario della De Cecco. Chi fa pasta vive 130 anni. Così il titolo da fare a San Martino alla Russia. La storia dell'azienda parla il presidente. Legati all'Abruzzo, globali ma sempre con le nostre radici. Filippo Antonio tra passato, presente e futuro. Il segreto è la ricerca ossessiva della qualità del prodotto. La discarica di bussi, nove anni di ritardi. Bomba ecologica mai disinnescata. Il centro pubblica le allarmanti conclusioni della commissione d'inchiesta. I verbali delle deposizioni raccolte in Parlamento. Vediamo nel taglio basso. Ecco le audizioni. Gli imputati sapevano di avvelenare dal 71 rifiuti seppelliti e mai toccati. fanghi tossici fino al porto spesi 11 milioni. Servirebbe l'esercito e emergenza. E poi l'intervista denuncia. Pressioni politiche continue. Ora deve vigilare Cantone, il presidente della bicamerale sui rifiuti, Alessandro Bratti. Presto in Abruzzo. L'appalto per la bonifica del sito Fagola Molti. L'ANAC tenga alta la guardia. E poi il governo. Abbiamo visto. Europa riforme. Riforme par condicio sul voto. La RAI è sotto accusa. E poi ok al bilancio dell'Unione. L'Italia critica e si astiene. Passiamo alla prima pagina dedicata alla regione. la convention di Confindustria in apertura zecca burocrazia da terzo mondo. Il presidente Chieti Pescara attacca amministrazione pubblica e politica e boccia la Conforta Abruzzo, specchio del paese. E sulla convention che si è svolta ieri sera, appunto, vediamo l'impresa che verrà. Questo il titolo della tavola rotonda che si è svolta appunto nei padiglioni dell'ex COFA. Vediamo il contributo video di Paolo Renzetti. Il Marina di Pescara ha ospitato l'ottava convention delle imprese di Confindustria Abruzzo. Dal titolo l'impresa che verrà tra gli ospiti d'onore il presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia, il segretario nazionale della CGL Susanna Camusso ed il vicepresidente vicario del Parlamento europeo Antonio Tajani, a fare gli onori di casa il presidente regionale di Confindustria Agostino Ballone. Nel corso della tavola rotonda sono intervenuti fra gli altri il costituzionalista Michele Ainis, il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, Luca Paolazzi, direttore del centro studi di Confindustria e poi ancora Massimo Cavazza, vicepresidente della piccola industria Confindustria per la cooperazione e l'integrazione e Gennaro Zecca, presidente di Confindustria Chieti Pescara. Serve una politica economica che ponga una importanza rilevante e quale priorità alla questione industriale del paese. Siamo il secondo paese industriale d'Europa e su questo dobbiamo puntare. Timidamente stiamo uscendo, c'è un'inversione di tendenza, dobbiamo ancora recuperare alcuni punti di PIL che abbiamo perso dal 2008 a oggi. La cosa positiva è che abbiamo un'inversione di tendenza. Chiaramente bisogna spingere affinché la crescita sia il grande fronte da affrontare, sia come questione italiana che in particolare come questione europea. Qual è lo stato di salute invece delle imprese abruzzesi? Lo stato di salute è un po' specchio del paese. Le medie non sono più significative, abbiamo imprese che vanno molto bene, imprese che vanno mediamente bene, imprese che vanno molto male noi. Questa situazione rende difficile un'analisi chiaramente sulle medie. Bisogna lavorare su dati analitici aiutando le imprese che sono molto avanti a correre ancora di più, aiutare quelle che sono nella fascia media a costruire un percorso dimensionale e culturale di apertura e l'Abruzzo è un po' specchio del paese come l'Italia. Si continua in una politica che non è una politica di utilizzo delle risorse per la creazione di lavoro, continua a esserci un totale squilibrio tra quanto si è speso in decontribuzione senza avere degli effetti duraturi e stabili sull'occupazione e come quelle risorse invece avrebbero potuto essere utilizzate per creare effettivamente lavoro, cantieri, cambiamento del livello di investimenti del nostro paese. Continuo a pensare che noi abbiamo bisogno di uscite strutturali, non di tamponi della situazione e per questo le risorse che ci sono avrebbero utilizzate in investimenti. Ed ancora vediamo, aumentano le regalie, la legge mancia, passa, accuse e polemiche in Consiglio regionale ma alla fine gli emendamenti sono votati anche dal centrodestra. Pescara, scrutatori lottizzati, parlamentari 5 Stelle, intervenga la procura, Vacca e Colletti, va verificato se è stato fatto qualcosa in cambio delle nomine e il gruppo pentastellato chiede ai consiglieri l'elenco dei nomi segnalati. Anche su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video di Francesca Romana Testi. Una mozione per rendere trasparenti e casuali i nomi degli scrutatori per il prossimo referendum costituzionale. Il Movimento 5 Stelle di Pescara, seguito delle notizie trapelate sulle nomine di scrutatori amici o parenti, lancia una proposta pubblica e denuncia favoritismi scorretti nei riguardi di chi invece si trova in situazioni lavorative precarie o peggio ancora senza lavoro. Emerge questo sistema in cui vengono fatte delle nomine addirittura della figlia del vice sindaco e che si mostrano come consiglieri comunali vadano a sconfessarsi l'un l'altro. Tutti sostengono infatti che questo sia un criterio che consente ai bisognosi di accedere a questa attività da scrutatori ma poi effettivamente c'è la figlia del vice sindaco. Tutti sostengono che ci sia stata correttezza nell'attività della Commissione elettorale ma poi c'è un altro consigliere che invece dice non abbiamo potuto monitorare tutti gli elenchi e c'è qualche politico che ne abusa. Quindi noi chiediamo appunto che venga messo in totale trasparenza quante persone ciascun consigliero o assessore ha nominato, quali sono, se vi sono rapporti di parentela fino al terzo grado o se sono stati nominati, quindi in qualche modo segnalati, persone che appartengono al partito quindi ex consiglieri, ex magari consiglieri di quartiere, insomma persone legate a quello. E' necessario garantire questa trasparenza, noi chiediamo invece che venga fatto il sorteggio tra inoccupati, disoccupati o studenti sotto i 30 anni sprovvisti appunto di reddito perché vogliamo indipendenza, bisogna superare questa intermediazione dei consiglieri comunali perché non può essere istituzionalizzato un meccanismo clientelare che con questo strumento si rischia. Ed ancora in centro pagina vediamo la riquilificazione dell'area di risulta, tre nuove deleghe, il sindaco continua a fare nomine a Montesilvano, bocciato il sorteggio ma spuntano nuovi nomi, il sindaco Maragno, l'ostacolo sono le liste non aggiornate, il paradosso e l'assessore all'anagrafe finisce nella lista delle riserve. Ancora sanità il caso, gli infermieri sono pochi e caccia ai fuori posto. La FIATS denuncia a turni pesanti nei reparti e tanti dietro le scrivanie. Il sindacato autonomo contro CGL e Will per anni hanno taciuto sugli spostamenti di personale dai reparti. L'ASL abbiamo rivalutato le posizioni degli operatori e non solo per il blocco delle assunzioni. E appenne per il San Massimo arrivano 12,5 milioni previsti l'ampliamento del pronto soccorso, della terapia intensiva e della cardiologia di intervento. Schianto con lo scooter 43enne in coma, incidente in piena notte in Viadoria, due testimoni hanno visto il conducente urtare contro la rotatoria e finire a terra. Malore in auto salvato sull'asse dai carabinieri Pescara, pescano ricci, multe per 9 mila euro. Il carico diretto in Puglia intercettato sull'A14 è rigettato in mare, tre persone nei guai. La protesta, gli studenti in corteo per la riforma della scuola. Ed ancora immobili, boom di mutuo, il mercato in ripresa, i dati di Tecnocasa del primo semestre, più compravendite a Pescara e provincia. La domanda prevalente riguarda i trilocali, i prezzi in calo rispetto agli anni scorsi. In provincia, Acli, vediamo Acli e pensionati, incontro sul referendum. L'accordo, firmato protocollo comune-università, nel taglio basso invece start-upper e sviluppatori web a confronto da oggi a domenica nel Dipartimento di Architettura, l'evento dedicato a impresa e innovazione. La vedova Orlando, mio marito ucciso, nessuna giustizia, alla cerimonia di premiazione delle attività storiche, riconoscimento anche al bar Pasticceria di Via Puccini. Dal tappeziere al tabaccaio, ecco tutti i premiati. E nel taglio basso invece domani, incontro all'Aurum per ricordare Moro, stasera al Flaiano invece gli avvocati in scena per il Burkina Faso. Passiamo ancora avanti, pagina dedicata a Montesilvano, caso in comune, il TAR, troppi uomini nella giunta, la norma ignorata, accolto il ricorso di SEL, defenestrato Vaccaro, Maragno, costretto a inserire la terza donna, si va verso il rimpasto. Le vediamo nelle foto, le donne di Maragno in comune. L'assessore Silurato ha detto da poliziotto e da cittadino, rispetto pienamente la decisione, però mi dispiace, avevo tanti progetti in cantiere. Il primo cittadino invece non escludiamo di assumere ulteriori decisioni in merito alla composizione dell'esecutivo. E di Costanzo, del PD, ha detto, serve equilibrio e vera pluralità. Polizia locale, polemica sull'incarico, la CISL contesta l'affidamento al segretario generale del comune Univer. Abbandonata la discarica del Saline a Montesilvano, Milillo lancia l'allarme, contiene rifiuti pericolosi, ma la recinzione è distrutta e chiunque può accedervi. Ossario sotterrato scoperto a Spoltore, oggi la presentazione a San Panfilo. A Pianella gli scrutatori scelti a sorteggio, il sindaco basta alla spartizione in carico a disoccupati e studenti. E le poster ottavano i vecchi Bancomat a Montesilvano e Spoltore. A Montesilvano ancora De Simone offre l'albero di Natale, Città Sant'Angelo, il comune al tavolo della disabilità. Mentre a Montesilvano ancora partono da domani al Trisi le lezioni di skateboard, il progetto per ragazzi a Montesilvano. L'SOS e la sovrintendenza per salvare Palazzo Sirena, Francavilla, Comitati, Italia Nostra e Wendia chiedono di vincolare l'edificio. Rivendichiamo il diritto di tutelare l'eredità culturale delle risorse ereditate. Anche su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video realizzato nella giornata di ieri. Di Renzo, no alla demolizione di Palazzo Sirena, sì al recupero di questa storica struttura di Francavilla. Tra l'altro avete anche proposto un'istanza alla sovrintendenza. Sì, finalmente dopo anni di lavoro siamo riusciti a raccogliere svariato materiale che attesta che Palazzo Sirena e i lavori siano riconducibili al 1946. Il valore storico del Palazzo è certificato non soltanto dal Comitato, ma dall'Italia Nostra, dall'Associazione Reazionalisti Italiani. Insomma, un patrimonio culturale e identitario non soltanto di Francavilla, ma anche a livello regionale e nazionale. Quindi deve essere assolutamente tutelato. Voi chiedete che Palazzo Sirena torni ad essere il simbolo di Francavilla? Sì, va ristrutturato, basta con le bugie che vengono dette sui costi di ristrutturazione enormi, non è così. C'è uno studio preliminare che abbiamo commissionato come Comitato, i soldi ci sono, potrebbero essere tranquillamente trovati nel bilancio comunale. È un'operazione che va fatta assolutamente. Anche Italia Nostra dice no alla demolizione di Palazzo Sirena, perché? Beh, riteniamo che il Palazzo Sirena rientra a pieno titolo dentro il patrimonio storico, artistico e culturale di Francavilla, ma ha un significato che va anche oltre la cittadina di Francavilla. È un po' il segno della ricostruzione di un luogo, di un sito. Forse insieme alla chiesa di Santa Maria Maggiore di Cuaroni segna un po' la rinascita della città, della nostra costa dopo gli eventi del conflitto bellico. E ancora vediamo critiche sui cimiteri ai privati, a Cepagatti, ma i prezzi non saliranno. La Giunta difende il progetto. Francavilla, ancora servizio per i ragazzi all'oratorio, nasce il centro Ascolta Giovani con operatore a San Franco. San Giovanni Teatino, ricette natalizie dolci e salate, incontro gratuito di cucina ed ancora concerto gospel per ricordare i donatori di organi. Terremoto, danni a penne, lavanni chiusa per un'altra settimana, confronto acceso tra genitori, assessore e tecnici comunali. Mai detto che la scuola paratore è più sicura della Giardini. Castiglione-Casauria, vediamo ponte inaccessibile, la soluzione in 20 giorni e a tocco invece da Casauria. Sisma e crolli, sciarra del Lance, bisogna demolire e costruire il presidente, visita Tocco da Casauria e Torre dei Passeri. Penne, niente messe a San Domenico, preoccupa la tenuta della torretta, servono lavori di consolidamento. Andiamo ancora avanti, Chieti scatta l'indagine dei NAS, pesce con i vermi. In quattro all'ospedale acquistano code di rospo in un supermercato di Chieti e a cena filmano col cellulare parassiti simili a l'anisakis. A Lanciano liquami nei terreni da quasi un mese, centrale a biogas, rotta. Qui troppi furti, voglio l'esercito a San Salvo. Il sindaco Magnacca chiede controlli notturni nella zona industriale. Lettera al capo scout, all'Aquila, caro Matteo, ferma il metanodotto. Il gruppo Agesi di Sulmona scrive a Renzi, rispetta il nostro giuramento e salviamo il territorio da un impianto pericoloso. Il progetto, la SLAM, utilizza un'area di 12 ettari. Vandali dalla Maraini, sotto sono tre ragazzini. A Pescasseroli hanno 11 e 13 anni e sono accusati di aver devastato la casa della scrittrice. Ci annoiavamo, avrebbero detto i ragazzi. Teramo, l'incubo terremoto sfollati. Il record è a Teramo, superati i 3.300 senza casa. Il 96% delle persone sgomberate in tutto l'Abruzzo è residente nel territorio provinciale. A Montorio più di 600 evacuati e 335 a Cronialeto, ma le cifre sono destinate ad aumentare. E dorme nella roulotte per paura del sisma, ma scattano multa e rimozione forzata. A Tortoreto, l'artigiano scomparso non si trova il 56enne di Silvestre, sparito da martedì, escluso il collegamento con le ossa bruciate, ritrovate a Dascoli. Andiamo ancora avanti, passiamo però al messaggero. Vediamo alcune notizie all'interno del quotidiano. Vediamo l'edizione dedicata alla regione Abruzzo. Vediamo all'interno, come detto, abbiamo visto la prima pagina dedicata alla regione. Entriamo all'interno, vediamo la pagina dedicata alla provincia di Pescara, che apre con il caso Scrutatori, in lista parenti e amici. Tante le indicazioni inopportune dopo quella del vice sindaco, nominate fidanzate, figli di sindacalisti, persone legate ai partiti. La Martelli, cerchiamo di dare un aiuto a chi ha bisogno. L'assessore Di Pietro, sorteggiata a sorpresa tra le riserve. E il Movimento 5 Stelle, tiriamo a sorte e niente pasticci. L'uomo delle GAF, malessere nel PD, ma nessun processo, a Del Vecchio, l'aver suggerito il nome della figlia, ha provocato imbarazzi nel gruppo consigliare alla luce dei precedenti. Andiamo ancora avanti, il cuore nudo del teatro Michetti, viaggio nel cantiere, i vecchi interni completamente sventrati per fare posto a un innovativo palco con scena modulabile. Il controllo della sovrintendenza sui lavori che prevedono anche un adeguamento sismico della bella struttura Liberty. Polstrada a Pescara, a bordo dell'auto, 7 mila ricci di mare, maxi multa per tre persone. La polemica, l'off festival, il comune cancella gli eventi hard. Ricorsi tributari all'Aquila, proteste, il no dei commercialisti. In breve vediamo via le potature piano del comune per le strade, il ricordo serata in memoria del restituito Ciglia. La Ico chiude, vanno a casa in 123 dopo aver concordato 90 esuberi con regione e sindacati. Ieri al tavolo con il ministero e l'azienda di Alanno, ricordiamo, ha svelato il blef. Entro fine anno l'addio allo stabilimento per i lavori, l'unica alternativa è tra mobilità e naspi. La sentenza, meglio una donna, il tar boccia all'assessore Vaccaro, accolto il ricorso di SEL sul mancato rispetto della parità di genere. Schianto nella notte, con la moto contro la rotatoria e grave la mazzetta filmata, l'agenzia delle entrate chiede i danni, ha imparato. E poi, angeli del soccorso, Ictus al volante, anziano salvato dai carabinieri del NAS. L'Aquila, dipendenti usrascippati, Di Stefano minaccia dimissioni, l'assessore durissimo sull'ipotesi di utilizzo per gli ultimi eventi sismici. Consiglio al governo di estendere l'incarico ad Errani anche per l'Abruzzo. Prevenzione e protezione civile, il piano oggi spiegato ai cittadini della circoscrizione numero 7. L'emergenza, da Vinci Colecchi, da lunedì si torna alla normalità, il personaggio, l'Aquilana a Cili, trasferita a Vienna per un prestigioso incarico ONU. Vediamo ai domiciliari il marocchino che ha rapinato le poste il processo condannato ex maresciallo dell'arma e in itti otto mesi, inflitti otto mesi dal tribunale all'allora comandante della stazione di Ofena. Il centro servizi anziani diventerà la cittadella della cura della persona, l'Aquila, il sindaco, il CDA hanno presentato il bilancio dell'attività in vista la realizzazione di un polo per l'Alzheimer. Trasporti, sindacati, fondere l'arma con tua. Sanità, il distretto di Paganica, l'ex tribunale. Il mondo delle associazioni, vediamo anima ammersa, inaugurata la nuova sede. I tesori, Madonna Salus Populi Aquilani, la copia del dipinto. Torna in città, era ospitata all'interno della chiesa di San Marco, decisive le raccolte fondi. Cultura, piese a gran folla alla prima e conferma dei fondi. Spariscono cavi, operaio CAM licenziato contro un dipendente infedele e durissimo provvedimento dell'ente alla sua seconda grave decisione dopo la rissa interna. Denuncia del Consorzio al Commissariato onde evitare che il materiale sottratto giri senza alcuna autorizzazione. A Canistro, Santa Croce, gravi contrasti tra le maestranze a Sulmona. De Gennaro ricorre al Consiglio di Stato. Ancora a Sulmona, vediamo alloggi per copie di fatto, ecco il bando del Comune. Cantieri in centro, residenti preoccupati. Ad Avezzano invece salviamo la ferrovia dell'ex zuccherificio. Lo chiede Augusto di Bastiano e sempre ad Avezzano, morto l'uomo investito, la ditta assume il figlio. Chieti, Palazzo De Pasquale, inagibili, scala nobiliare terzo livello, due ordinanze in dieci giorni limitano. Drasticamente l'uso dell'edificio storico dovrà essere transennata via vicoli per colpa di un balcone pericolante. Carcere sociale, gli addobbi dei detenuti per le vetrine di Natale. Controlli, muffa e ragnatele, chiuso un frantoio e ancora busi. Borsone contro i vigili urbani, bloccato ambulante in fuga. Indaga il NAS, vermi nelle code di Rospo, quattro all'ospedale. Centrale a Biomasse, controlli e proteste a Lanciano. Sversamento segnalato dagli agricoltori, alertato il NOE, rischio di inquinamento. San Salvo, Confindustria dopo lo strappo denso, riconquisteremo le grandi imprese. E a Basto, anziano preso a pugni e rapinato, intervengono i carabinieri. Residence Plaza, niente abusi, tutti assolti. A Lanciano, via panoramica e via del mare, rivoluzione a senso unico. Ortona, tumori al seno, vince la prevenzione. Pagina dedicata a Teramo, l'inchiesta in apertura a commercio, dati disastrosi. Il sisma ha allontanato tutti e il peggior novembre mai ricordato. La gente ha paura solo a camminare in centro. Sconti astronomici, ma non basta, servirebbe anche un parcheggio. Procura, ricorso contro la condanna di Bacchetta. L'emergenza, il comune trasloca nella ex Banca d'Italia. Invibrata, minacciò il giudice, evade dagli arresti domiciliari. E poi, l'ano e lucidi, parte l'esposto alla procura. Lunedì, apre al Molinari, multe ai camper degli sfollati. I genitori chiedono l'accesso agli atti. Sulla costa, Giulianova, assalto al Malibu, sedie e tavoli in mare. Vandali in azione nel corso della notte nello chalet di Bertone. Sono entrati forzando l'ingresso principale ed hanno rotto tutto. L'allarme è dato da un cliente dell'hotel Europa che sorge di fronte e che era stato svegliato dai rumori. Sono stati notati tre ragazzi. Via Libera Restyling di Via Nazario Sauro ed ancora ospedale 5 Stelle sindaco di Mettiti. A Tortoreto, Demetrio, nessuna traccia, l'auto a Porto, Sant'Elpidio. Per quanto riguarda, si parla del 56enne scomparso. E poi a Albadriatica, essenze rare nell'area del Fratino. L'ha certificato il WWF di Teramo, ma bisogna salvaguardare l'arenile. A Roseto degli Abruzzi, nuovo porto, molo per la marineria locale. In breve, Civitella, domani scuole aperte. Ed ora vediamo velocemente qualche notizia all'interno del quotidiano della provincia di Teramo. La città, abbiamo visto la prima pagina nella parte iniziale, nella prima parte di mattino 6. Vediamo qualche notizia adesso all'interno appunto del quotidiano. Prima pagina, come detto, la entriamo all'interno. Vediamo la pagina dedicata alla Regione. Quali sono le notizie che riporta il quotidiano della provincia di Teramo. All'Aquila ha approvato l'omnibus con i contributi a pioggia, ricerca, agricoltura, formazione, cultura e sport. Nel minestrone finisce di tutto tra le critiche dei 5 stelle. L'incontro trasporto disabili sui bus di linea, la Regione ci ripensa. E poi nel taglio basso vediamo la nomina diplomatica aquilana a Vienna per l'ONU. Maria Assunta Cili, già ambasciatrice in Ungheria, sarà rappresentante permanente per l'Italia alle Nazioni Unite. Ed ancora l'indignazione. Vediamo quello che è successo a Teramo. La Polizia Municipale multa i terremotati, contravvenzioni e rimozioni per camper e roulotte degli sfollati, paura al campo di collaterrato. Oltre agli alunni della scuola materna, sfrattati anche gli attivissimi ospiti del centro anziani di San Berardo. Una vera e propria istituzione nella vita sociale del quartiere. Molinari, San Giuseppe, Savini, Noi Lucidi. Ancora tutto da decidere. Nelle scuole inagibili non si tornerà più in piazza Aldomoro. C'è da riorganizzare il trasporto in bus. E via Longo, case agibili ma sbarrate agli sfollati. La consigliera Cardelli torna sui guasti causati dal progetto di housing sociale. Superlavoro. In vista delle pratiche c'è da assumere nuovi tecnici. Le province chiedono lo sblocco dei vincoli di bilancio per le scuole superiori. Ed ancora verso la Banca d'Italia. L'occasione perduta per sistemare il municipio dopo il terremoto del 2009. Si è speso per arredi, spazi e tinteggiature, non per il miglioramento antisismico. E quindi adesso lo spostamento del municipio all'interno dell'ex Banca d'Italia. Andiamo avanti. Ripensare le città. Per i sindaci, gli edifici continueranno a crollare. Demolire, ricostruire oppure tenersi gli immobili inagibili. E la sfida per sindaci e governo. Ed ancora vediamo storie di terremoto. La postina amica che corre tra i terremotati. Lì a Di Gregorio, da quattro anni, porta le lettere nelle sperdute frazioni di Valle Castellana e Rocca Santa Maria. Passiamo avanti. Ancora vediamo dall'831.311 mila euro per il teatro romano. Il sottosegretario risponde all'interrogazione presentata a maggio da Paolo Tancredi. Secondo il Mibec, a mancare ora è solo il bando di gara, quello bloccato dal Tar a settembre per un errore del comune. L'avvertenza, incontro in prefettura tra sindacati e proprietà PAP, ereditata dalla nuova proprietà, le commesse ridotte e le rivendicazioni salariali. Pranzo Carbonaro per lo sgambetto a Brucchi, di Stefano Gatti, Sospiri e di Giovan Giacomo alla conviviale dell'Associazione Nuove Energie. Il dopo Brucchi, grande attesa per il referendum e per ciò che accade in regione, la politica si prepara ad eventuali ribaltoni. E poi l'iniziativa Teneo, martedì giornata della legalità per Confcommercio a Cartecchio, TIR resta incastrato al passaggio a livello. Ancora altre notizie da Teramo, Ainis torna a Teramo per la Costituzione e bellezza. Ieri a giurisprudenza la presentazione del nuovo libro scritto a quattro mani con Vittorio Sgarbi. E referendum il Guardia Sigilli, Orlando oggi a Teramo per il Sì, quindi interverrà all'incontro il Ministro della Giustizia Andrea Orlando. La lettera Alberto Pepe, un esempio per tutti i teramani, nessuna città d'Italia ricorda uno dei 44 martiri di Anderlus. Come la vostra, siate sempre fieri della sua memoria. Il libro quindi è il ricordo. Andiamo ancora avanti, vediamo il rapporto. Eduscopio 2016, Lozoli resta il miglior liceo per l'università. Ed ora vediamo le notizie per quanto riguarda Civitella, quasi pronta la scuola nel ristorante. Domani mattina iniziano le lezioni all'interno dell'Ermocolle di Civitella. Al Badriatica, Colonnelli chiede l'Umi sulla gestione dei cimiteri comunali. Ad Ascoli, evaso il tunisino che ha minacciato il giudice, era ai domiciliari, ha rotto il braccialetto elettronico e ha fatto perdere le tracce. Corropoli, niente lezioni alla Badia per i lavori antisismici. Tortoreto, il caso dell'artigiano scomparso diventa un giallo. I carabinieri analizzano la BMW abbandonata da Demetrio di Silvestro nella foto. Ed ora torniamo al messaggero per vedere la pagina dedicata allo sport da Abruzzo Sport in apertura. Lo stadium non deve farci paura, il difensore campagnaro Il Pescara deve puntare a giocare. Il mio duello argentino con Iguain ci conosciamo bene. Oddo cambierà il reparto arretrato, lo abbiamo provato. Purtroppo ci mancava la vittoria, dobbiamo sempre provarci. La partita del cuore, Federico Giampaolo avanti con Oddo. Gli steggi di Ventura, Zampano e Caprari in azzurro, Magic Moment. E poi Lega Pro, Nofri, Teramo obbligato a vincere con L'Ancona e Sansovini. Sarà l'unico terminale offensivo domani nello scontro diretto per la salvezza. Altre notizie di sport, l'acqua e sapone inizia stasera l'avventura di Ricci. Alle 20.45 il nuovo allenatore debutta al Palaroma. Dobbiamo battere la Lazio, serve l'aiuto del pubblico. E con le notizie sportive termina la nostra rassegna stampa. E quindi l'appuntamento con Mattino 6 torna domani, puntuale, alle ore 7. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per la visione! Grazie per la visione!